Poi, solo sulle punte, quindi punte qua, non dall'orecchio, puntine, avendo lo chatouche, quindi il capello molto secco, dato che è stato decolorato, applico quest'olio della Agave, che è piccolino, ma dura tantissimo. Ed è Bio Ionic, un olio appunto per le punte dei capelli, che mi ha sempre mandato Ruggero da provare, e che anch'esso ne va veramente una goccia, applicato solo sulle punte, e noto che non è più pastoso il capello quando andrò poi a passare la piastra.